Musica Ancora buonasera da Milano Pavia News e benvenuti all'edizione Pavia. I titoli. Grave incidente a l'ora di pranzo alla frazione Tornello di Mezzanino. Due persone sono state travolte davanti al bar da un'auto che è uscita di strada alla curva che emette verso il ponte della Becca. Situazione ancora fluida per i ricoveri da coronavirus in provincia di Pavia. Continuano a scendere i pazienti del San Matteo mentre si registra un nuovo aumento negli ospedali a SST. Ma nel bando per gli aiuti al commercio rivolto al centro di Pavia ha segnato solo un terzo dei fondi e la proroga dei tempi ha consentito un rush finale ma le domande presentate sono state poche. Voto unanime in consiglio regionale per il finanziamento della tangenziale di Belgioioso, un provvedimento che ha visto uniti tutti i rappresentanti politici del territorio. Non si potrà fare il tradizionale concerto di Natale della Gavina di Voghera, la prima volta in un secolo per la colale nata nell'anno in cui esplose l'epidemia di Spagnola. Musica solo online. In apertura naturalmente la notizia della scossa di terremoto che si è avvertita alle 16.59. Secondo quanto riportato dall'Istituto di Geofisica e Vulcanologia la scossa ha avuto una magnitudo pari a 3.9. L'epicentro è stato individuato a Milano in via Sant'Elia nei pressi del Monte Stella, una scossa che si è avvertita anche in provincia di Pavia, perlomeno ai piani alti delle abitazioni, ma non si segnalano danni. Dalla centrale operativa regionale della Croce Rossa ci hanno anche confermato che ci sono state chiamate, sì, di cittadini spaventati, ma nessuno che ha appunto segnalato danni. E un'altra notizia dell'ultima ora, per il Consiglio di Stato è legittimo l'accordo tra San Matteo e Diasorin. Stiamo parlando della questione relativa ai test sierologici per il coronavirus. I giudici della terza sezione hanno riformato quella che era stata la decisione del Tar Lombardia, che aveva invece annullato l'accordo di collaborazione fra l'azienda e l'Istituto di Ricerca. I magistrati hanno ritenuto dirimente la constatazione che la validazione e l'eventuale sviluppo del progetto di ricerca privato non ha carattere di esclusività rispetto ad altri possibili progetti scientifici di altri soggetti privati. Rispondendo al fine istituzionale degli istituti di ricerca di sostenere progetti di ricerca anche privati e di validarli sostanzialmente il fatto che Diasorin e San Matteo abbiano collaborato non costituiva, interpretando questa sentenza del Tar, un ostacolo per altri privati. E proprio mentre andava in onda la sigla è arrivata anche la dichiarazione del direttore generale del San Matteo Carlo Nicora, che ha commentato dicendo con questa sentenza Il Consiglio di Stato afferma quanto fatto fino ad oggi dal San Matteo di Pavia nell'ambito della ricerca, è questo un tassello importante e siamo molto soddisfatti. Così appunto sulla sentenza del Consiglio di Stato che rende definitivamente a questo punto legittimo l'accordo fra la Diasorin e il San Matteo. La cronaca con un incidente molto grave che è avvenuto oggi all'ora di pranzo alla frazione Tornello di Mezzanino, due persone davanti a un bar sono state travolte da un'auto che è uscita di strada. Un'auto che sbanda e invece di fare la curva tira dritto e invade il Deor del bar con sedi e tavolini e purtroppo anche due persone che sono state travolte. È accaduto a Mezzanino inoltre po' a pochi metri dalla ponte della Becca attorno alle 13.30 di giovedì. L'auto proveniva da Stradella e andava in direzione di Pavia. Per causa ancora da chiarire ha invaso l'altra corsia finendo davanti al bar per bacco gestito da una famiglia di origini cinesi che si trova proprio sulla curva. Un impatto violento, le due persone sono state travolte in pieno dall'auto in corsa. Si tratta di due uomini di 62 e 68 anni le cui condizioni sono attualmente al vaglio dei medici. Sul posto sono intervenuti anche il 118 con automediche, ambulanze e l'elissoccorso di Milano oltre ai carabinieri di Stradella. L'emergenza sanitaria purtroppo continua a portarci brutte notizie. Due fratelli gemelli, entrambi carabinieri ed entrambi morti a causa del coronavirus. È morto infatti nelle scorse ore a soli 56 anni Michelangelo Sansipersico, fratello gemello di Nicola morto per Covid lo scorso marzo. Nicola Sansipersico era stato in servizio per tanti anni a Voghera, dove era rimasto anche dopo la pensione, mentre il fratello Michelangelo era in servizio a Bari. Nella famiglia Sansipersico sono giunte le condoglianze del comandante generale dei carabinieri Giovanni Inistri e anche di Pasquale Regina. Il sindaco dito Ritto, paese natale dei due gemelli carabinieri, che ha commentato sono senza parole per il destino inimmaginabile che ha comunato Nicola e Michelangelo. Michelangelo, deceduto martedì, era diventato vicebrigadiere, prestando servizio prima nella liquota radiomobile di Varese e poi al raggruppamento operativo speciale di Milano fino al 97, anno in cui poi è tornato a Bari. Anche Nicola, che lo ricordiamo era mancato il 27 marzo scorso, si era ruolato nel 1981 e sette anni dopo era destinato a Voghera, diventando in breve maresciallo, comandante di stazione e infine comandante del nucleo operativo radiomobile. I dati sui ricoverati negli ospedali della provincia di Pavia, che dimostrano che questa seconda ondata non è per niente finita. Prosegue il trend di stabilizzazione del numero dei ricoverati nelle principali strutture ospedaliere della provincia di Pavia, che stanno affrontando la pandemia anche oggi come normale, osservando l'andamento quotidiano. I dati non sono perfettamente in linea con l'andamento regionale e fanno segnare un ulteriore calo dei pazienti ricoverati al San Matteo di Pavia e invece un incremento nella rete di ASST Pavia. I dati sui pazienti affetti da Covid-19 che necessitano delle cure dei medici ospedalieri, insomma, restano altalenanti pur in un contesto di generale riduzione. Vediamo dunque come al San Matteo di Pavia, dove in una giornata rimane alto il numero delle dimissioni, 12, e quello dei ricoveri, 6, in totale i pazienti siano scesi di 7 unità. Sono 160 ad oggi contro i 167 di mercoledì. Dato positivo nella drammaticità della situazione, la riduzione del numero dei malati che necessitano di una terapia intensiva, che scendono a 43, un numero ancora molto elevato rispetto alla media storica dei pazienti affetti da problemi respiratori che avevano bisogno della rianimazione, ma comunque in decrescita. Una decrescita in generale a cui non assistiamo oggi nella rete di ASST Pavia, l'ex azienda ospedaliera, dove in totale i pazienti Covid crescono di 6 unità. A fronte di numeri stabili a Vigevano, Broni, Stradella e Casorati, infatti, a Voghera, in 24 ore, per 7 persone, si è reso necessario il ricovero in ospedale. I dati regionali di oggi sono molto simili a quelli di ieri e ci raccontano di 2730 nuovi positivi, con una percentuale rispetto ai tamponi effettuati dell'8,6%. Vedete che in provincia di Pavia sono stati diagnosticati 156 nuovi casi. Abbiamo sentito i dati dei ricoveri ospedalieri in provincia di Pavia, a livello regionale invece continua una generale discesa, meno 153 nei riparti ordinarie e meno 18 nelle terapie intensive. Per quanto riguarda i decessi, il numero varia di giorno in giorno. Nelle ultime 24 ore sono state 68 le persone morte per coronavirus in Lombardia. Per quanto riguarda gli aiuti e le categorie più colpite, c'è da segnalare che i bandi per sostenere commercio non sempre hanno successo. Ad esempio, dei 300 mila euro che erano disponibili per i negozi del centro di Pavia, ne sono state distribuite soltanto 100 mila. Sono arrivate poche domande e evidentemente in pochi avevano i requisiti necessari. Chiusa anche la seconda tornata di contributi, il comune di Pavia può tracciare un bilancio degli aiuti economici a commercianti, esercenti ed artigiani di attività che si trovano nel distretto urbano del commercio. Quello cioè del centro allargato, all'interno del perimetro delimitato dal Naviglio, dalla ferrovia a lungo Ticino, più la parte del borgo a ridosso del Ticino. Ad un primo elenco di 10 attività erano stati assegnati all'incirca 45 mila euro a fondo perduto, a cui se ne sono aggiunti altri 64 mila, grazie alla proroga chiusa lo scorso 7 dicembre. Il bando era rivolto alle micro, piccole e medie imprese del commercio, della ristorazione, del terziario e dell'artigianato, nell'ambito del bando regionale distretti del commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana, una misura varata per sostenere le piccole attività che hanno subito le conseguenze economiche della pandemia. Complessivamente gli aiuti ammontavano a 300 mila euro, 170 mila da regione Lombardia e altri 130 mila dal mezza barba. Nella prima fase sono stati pochi i commercianti ad usufruire degli aiuti, una sessantina in tutto. Da qui la richiesta di Ascom di prorogare i termini. L'estensione della tempistica dal 28 novembre al 7 dicembre ha consentito di assegnare altri 65 mila euro. Cerca un terzo dei contributi economici sono stati quindi utilizzati. Misura analoga è destinata anche alle attività commerciali delle periferie. L'esito delle ultime elezioni comunali di Vigevano andrà riconteggiato anche se il risultato finale non è in discussione. Taras è pronunciato sul ricorso presentato da 5 dei 6 candidati sindaco sconfitti che contestavano anomalie nei verbali. In particolare si faceva notare come in diversi seggi mancassero indicazioni che consentissero di ricostruire il numero di schede consegnate, vidimate e poi riconsegnate al seggio centrale. Il giudice del Tribunale amministrativo hanno stabilito che bisognerà riconteggiare i voti del seggio 45 su cui si erano concentrate parecchie anomalie. Il riconteggio di un solo seggio in ogni caso non andrà a inficiare. È il risultato finale che vede così di fatto la conferma della vittoria a primo turno di Andrea Ceffa. Diverse mamme sono scese in piazza oggi pomeriggio a Pavia per protestare contro la decisione del comune di esternalizzare a partire dal prossimo anno scolastico una scuola materna e un asilo nido comunale cedendo la gestione ai privati. La manifestazione di protesta si è tenuta in piazza della vittoria e fa seguito all'esposizione di striscione ai cancelli di nidi e scuole dell'infanzia nonché alla consegna di una petizione al sindaco fracassi con le firme di 2300 cittadini. Le mamme chiedono di non cambiare un servizio che funziona e che fa di Pavia un'eccellenza a livello nazionale. È un servizio completo sulla manifestazione di oggi pomeriggio, del tardo pomeriggio di oggi, nelle prossime edizioni. Rimaniamo a Pavia perché si è proceduto ad alcuni importanti lavori di manutenzione agli impianti sportivi. Campionati fermi e stadi chiusi, il lockdown dello sport diventa allora l'occasione per sistemare il patrimonio degli impianti gestiti dal comune. È il caso del Fortunati e dei campi attigui del Mascherpa, spazi che al termine del blocco torneranno finalmente ad ospitare il Pavia Calcio dopo il lungo esilio di Trezzano. E numerosi appassionati in città. Erano tanti anni che il campo del Mascherpa e diciamo che l'impianto, tutto in generale, il Fortunati, ha bisogno di essere un po' risistemato. Qui il campo del Mascherpa in particolare era stato abbandonato dopo l'epoca dei cinesi. Siamo stati a fare un sopralluogo nei mesi scorsi insieme all'ufficio sport e abbiamo visto che qui effettivamente era assolutamente impraticabile anche per consentire l'attività di base e l'attività amatoriale. Allora abbiamo pensato che, siccome in questo periodo abbiamo noi in gestione questo impianto, abbiamo pensato che fosse ora di fare della manutenzione. Abbiamo incaricato una ditta, facendo una regolare gara ad appalto, abbiamo incaricato una ditta, la Lucon Sport, che ci sta risistemando questo impianto in sintetico in modo tale da poterlo mettere a disposizione sia dell'attività di base, quindi i ragazzini, sia delle squadre, degli amici che vogliono fare la partita a livello amatoriale. Non è ancora omologato per le gare ufficiali, che è una cosa che eventualmente valuteremo di fare successivamente. Un'opera di restyling a 360 gradi su tutti gli impianti. A noi quello che interessava era di mettere immediatamente a disposizione questo impianto, mettere a disposizione degli sportivi. Ed è una cosa che stiamo facendo con tutti gli impianti della città, perché ora stiamo parlando del Mascherpa, abbiamo sistemato il Fortunati, abbiamo fidato l'incarico alla Ideal Service per la manutenzione. Abbiamo fatto qualche settimana fa, abbiamo fidato l'incarico, io credo che il campo sia tenuto in ottime condizioni. Stiamo facendo anche per gli altri impianti, non sapevo, io non lo sapevo, ammetto, il Comune proprietaria di un paio di campi da tennis, che sono sempre stati inutilizzati, abbandonati. In questi giorni abbiamo fatto un bando per la manifestazione di interesse, intendiamo dare questi campi in gestione, utilizzarli, farli utilizzare da appassionati di sport. Gli uffici del Comune sono inoltre al lavoro per il nuovo bando per la gestione del Fortunati, documento rallentato dalla lunga pandemia. Il bando lo stiamo facendo, in via di ultimazione, come ho sempre detto in varie occasioni, il bando per la gestione del Fortunati è un bando intersettoriale, non riguarda soltanto lo sport, coinvolge anche altri settori impegnati su altri fronti, soprattutto in questo periodo di emergenza. Il bando si sta decidendo soltanto quando farlo uscire, perché in questo periodo di Covid abbiamo pensato che fare uscire il bando in questo periodo poteva voler dire magari escludere qualcuno dalla possibilità di partecipare, per le varie limitazioni che ci sono. Appena finirà questo periodo emergenziale saremo sicuramente pronti a pubblicarlo e quindi poi speriamo di poter dare in gestione l'impianto a qualcuno che si occupi sia del Mascherpa che del Fortunati. Il Consiglio regionale ha approvato un ordine del giorno per il finanziamento della tangenziale di Belgioioso. Il provvedimento è prima firma del consigliere del Movimento 5 Stelle Simone Verni e sottoscritto da tutti gli altri consiglieri pavesi, cioè Roberto Mura della Lega, Ruggero Invernizzi di Forza Italia e Giuseppe Villani del PD. Ringrazio i colleghi per il sostegno e l'aiuto fattivo nell'ottenimento di questo importante risultato che supera le appartenenze di partito, ha detto Verni. Quest'opera andrà a migliorare un sistema infrastrutturale che oggi risulta inadeguato e obsoleto e che grazie anche alla recente approvazione con voto unanime della risoluzione per il prolungamento della tangenziale di Pavia, comporterà una volta realizzata un importante passo avanti per tutto il territorio pavese. Sono state simbolicamente donate alla clinica pediatrica del Policlinico San Matteo alcune copie del libro Virus e altri guai. Un'opera realizzata dalla neuropsichiatra infantile Silvia Bergonzoli, dal pubblicitario Marco Giusfredi, dal saggista Paolo Mazzarello e dal divulgatore scientifico Francesco Cavalli Sforza. La pubblicazione è rivolta a genitori ed educatori di bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni che improvvisamente si sono trovati di fronte a un evento traumatico di cambiamento quale la pandemia. L'opera invita insegnanti ed educatori a una comunicazione efficace e precisa nei riguardi dei bambini che sono spesso i più sensibili ai cambiamenti inattesi ma anche i più adattabili laddove messi nella condizione di affrontare con serenità le situazioni difficili come appunto quella che stiamo vivendo. Una pandemia che ha comportato stravolgimenti di programmi consolidati negli anni, addirittura da 100 anni, senza interruzioni nemmeno per la guerra, la corale Gavina di Voghera faceva il concerto di Natale che quest'anno non si potrà fare ovviamente in presenza. Anche per la polifonica Gavina, la storica corale di Voghera, saranno feste particolari. Il tradizionale concerto di Natale, mai sospeso neanche in tempo di guerra, non si farà. Al suo posto l'associazione trasmetterà su Youtube quello ottenuto nel 2019, l'anno del centenario dalla fondazione. Un modo per dire, nonostante tutto, noi ci siamo e vi auguriamo ogni bene. Del resto è comprensibile, un coro è per sua stessa natura un assembramento di persone. Così in questo Natale 2020, la Deste Fideles della Gavina non risunerà nel Duomo di Voghera, ma per chi vorrà dalle casse di un PC o di qualche altro device. Un'opportunità per rimanere in contatto che ai tempi della fondazione della polifonica, il 1919, quando nel mondo e in Italia imperversava l'ultima grande pandemia dell'influenza spagnola, non c'era ancora. Le persone che cantano sono considerate un pericolo per la salute, più che le persone che parlano. E quindi anche questo ci ha portato a un momento di stop per quanto riguarda le prove e naturalmente maggior ragione anche i concerti. Diciamo che ci siamo presi una bellissima occasione l'anno scorso, durante il centenario, che siamo riusciti appunto a celebrare il 22 di dicembre in Duomo con una messa, Nelson Messe di Haydn, proprio è servita come coronamento di questi cento anni di storia del coro lirico-vogherese. Avete deciso, come in altre realtà, di muovervi un po' con la tecnologia, per quanto evidentemente il calore di un concerto del vivo sia altra cosa, ma in qualche modo per continuare questa tradizione che appunto lega la vostra realtà alla città di Voghera, al Natale, da tantissimi anni. Sì, non potendo fare nulla, diciamo, da un punto di vista fisico, in presenza, abbiamo pensato di riproporre il concerto del centenario dello scorso anno in modo tale di fare in questo modo anche un pochino gli auguri per il 2020, che è stato un anno difficile un po' per tutti, nella speranza di poter ricominciare nel 2021, Covid permettendo, a fare qualcosa di importante per la città di Voghera. Il coordinamento volontariato di Vigevano è organizzato in occasione del Natale una distribuzione straordinaria di buoni spesa, sacchetti di riso, panettoni, mascherine, giocattoli e scatole di Natale. Sono state individuate circa 80 famiglie bisognose destinatari dell'iniziativa che verrà svolta presso la sede degli Alpini grazie ai volontari di Articolo 3 e Angeli Colorati. Il coordinamento volontariato sta proseguendo la raccolta di materiale informatico anche usato, giocattoli e buoni spesa. In città intanto si moltiplicano le iniziative di solidarietà. Sempre più studenti, liceali e universitari stanno raccogliendo scatole di Natale, mentre i diplomati dell'anno 1986, non potendo svolgere la consuetà cena di classe, hanno deciso di donare un corrispettivo per l'acquisto di borse con generi alimentari e prodotti per l'igiene che verranno distribuiti dalla Croce Verde. A Pavia la comunità di Sant'Egidio ha pensato a come sostituire il tradizionale grande pranzo di Natale per i bisognosi che quest'anno ovviamente non si potrà realizzare. Sarà un Natale diverso anche per la comunità di Sant'Egidio. A causa dell'emergenza Covid non potranno essere riproposti infatti. I pranzi che lo scorso anno avevano coinvolto diverse centinaia di persone in tutto il capoluogo. Non mancheranno però, come di consueto, gli aiuti alle persone più bisognose. Cancellati i pranzi in compagnia, i volontari consegneranno porta a porta oltre 800 regali a chi è in difficoltà. Un modo per portare avanti quel progetto di inclusione e solidarietà che la comunità persegue da circa 40 anni a Pavia. E' importante, spiegano i volontari in una nota, accendere la luce del Natale in un tempo così buio. Nel rispetto delle norme di prevenzione sanitaria porteranno dunque un sorriso, un regalo, un panettone a chi è povero e solo, ai senza tetto e agli anziani. Senza dimenticare chi, forse per la prima volta, si è trovato a dover chiedere aiuto perché è impoverito da questa lunga crisi. I doni arriveranno anche al carcere di Torre del Gallo per i detenuti più indigenti. La lotta al virus si fa anche con la solidarietà. Per questo la comunità di Sant'Egidio chiede alla cittadinanza di sostenere l'iniziativa con la sua generosità. Si potranno portare oggetti e regalo nuovi presso la sede in piazzetta Azzani, fare una donazione contattando la comunità via mail oppure offrirsi come volontari. Chiudiamo qui questa edizione. Vi ricordo in prima serata l'appuntamento in diretta con il Toy Show Politica alla Parola. Rivederci e buona serata. Rivederci e buona serata.